Buonasera a tutti. Nella biblioteca di Premolo è stata organizzata una mostra il 17 e il 18 aprile intitolata Emozioni. Questa mostra è stata realizzata dai ragazzi dell'Istituto Comprensivo di Ponte Nossa, delle scuole medie, e hanno preparato dei pannelli con delle piastrelle e dei disegni. Tutto il lavoro riguarda l'espressione delle loro emozioni, per cui è un lavoro molto interessante e che ha dato anche dei bellissimi risultati, come poi potrete vedere. Questo lavoro è stato effettuato nel laboratorio Parte Creando, organizzato da Insieme Meglio. I ragazzi sono stati coordinati da Mara e Angela, che li hanno accompagnati in questo bellissimo lavoro. Allora, questa è nata anche come mostra itinerante, nel senso che dovrebbe poi essere, questi pannelli dovrebbero essere esposti anche nei paesi limitrofi. Poi, una volta finito il giro, dovrebbero essere affissi in pianta stabile, in un posto ancora da decidere a Ponte Nossa. Allora, la mostra si compone di 18 piastrelle che riguardano le singole emozioni dei ragazzi. Poi queste emozioni sono state trasferite sui pannelli. E poi ci sono otto disegni, anche questi, che sono serviti come preparazione per i pannelli. Allora, nel graffito viola, la freccia rivolta verso l'alto all'interno della scala indica la difficoltà della salita delle cose che ci pesano di più. Invece, in questo graffito giallo, la freccia che è rivolta verso il basso all'interno della scala indica la facilità della discesa delle cose che ci piacciono maggiormente. Il graffito azzurro raccoglie le nostre emozioni e i nostri pensieri più belli. I nostri ricordi volano leggeri uscendo dalla finestra aperta. Quest'ultima ci permette di vedere le stelle e la luna che ci ricordano luoghi lontani che sono sempre nei nostri pensieri e ci mancano molto.